Datful, la forma che ho sentito è che un po' di rizmi fuori fuori dal woodwork E dando loro dei regali Anche se, come è ovvio, se ne saranno felici, o meno dipende dal regalo Ciascuno ha i propri gusti State a scegliere il regalo dato a quella persona Per che la vostra affinità aumenti L'affinità con un personaggio può aumentare tramite i doni soltanto una volta al giorno Però Ok Allora Dobbiamo parlare con Con Ok Lennart Oh, hai un negozio con la apoteca? Oh, no, non sono perdita o nulla, signora Non dovresti preoccupare con la mia account Non Sono una apoteca in attenzione, lo vedete? Combinare i materiali Ti è possibile combinare due materiali per creare un nuovo oggetto Per farlo puoi selezionare le due componenti da te oppure puoi scegliere una combinazione già usata in passato Per di più Poi anche scegliere se debbano essere prese per rima della borsa della Ryzen Dalla borsa della Ryzen o da una di quelle delle sue pidine Allora, aspetta, 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 si accumulano troppe missioni poi Facciamo prima questa Ah, ora ho capito A Hell Beh, Matt You're the one who saved She told me all about it It was a very brave thing you did I'm in your debt Riese is as good as my daughter Here, consider this A small token of my Now, tell me Are you regi- Perhaps you already know this But registering with a guild Will grant you access Well, now That won't do You need a Go on Turn on se c'è il risultato che vuoi sapere di scendere, potremmo che posso consigliare. È un scendio per quelli che cercano di farciare le arti mistiche. Ma che è più potente il risultato, in questo modo, un mago non è sicuro di durare molto lungo sul campo della guerra, senza gli amici per proteggerli. Ok. 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 In questo caso, i suoi amici di scendere, i suoi talenti dipendono sulla loro finesse e la capacità di compensare la lunga della sua scendola con una agilità assoluta. Molto bene. Non c'è una scelta scelta, in ogni caso. Ma non posso prendere più del tuo tempo. L'abilità dei maestri. L'abilità del maestro di ciascuna classe è la più forte in assoluto che si possa imparare. Per farlo dovrai leggere un tomo speciale, che potrai ricevere se le tue capacità convincono il maestro. tuttavia il vero potenziale dell'abilità si manifesta soltanto a coloro il cui rango di classe è abbastanza alto. L'abilità del maestro di ciascuna è abbastanza alto. L'abilità di ciascuna è abbastanza alto. L'abilità di ciascuna è abbastanza alto. Impara e assegna abilità. Le gilde delle classi. Tutte le procedure riguardanti delle classi possono essere svolte presso le sedi della gilda delle classi. Cambiare classe. Puoi passare a ciascuna classe sbloccata quando vuoi. Per sbloccarne di nuovo ti serviranno dei punti classe che puoi ottenere uccidendo nemici e completando missioni. Le abilità. Ogni classe è caratterizzata da diverse abilità che puoi imparare man mano che sali di rango al suo interno. Imparare e abilitare richiede punti classe. Puoi usare le abilità di classe non appena le impari, mentre per poter usare le abilità arma dovrai prima equipaggiare quella corrispondente. Le capacità. Le capacità sono abilità speciali che possono essere equipaggiate a prescindere dalla classe corrente. Puoi sbloccarle spendendo dei punti classe e saranno sempre attive una volta equipaggiate. Il massimo di capacità equipaggiabile è 6. Infine le capacità disponibili aumenteranno via via che sali di rango delle classi. Ok. Allora. Ah. Ah ok, quindi posso passare da mago a guerriero. Sono di rango 2. Lista capacità. Ok. Fulgure. Colpisce il nemico dall'alto con dei fulmini. È possibile evocare ulteriori fulmini consumando resistenza. Palladium genera una massa di energia magica bloccando fino a 3 attacchi da parte dei bersagli. L'energia si dissipa dopo un certo tempo. Mmm. Dono del fulmine. Che conferisce un incantesimo del fulmini all'arma dell'utilizzatore o di un alleato. tutto. Ok. 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 Il tono del fuoco conferisce un incantesimo di fuoco all'arma dell'utilizzatore o di un alleato. Abilità classe. Lancia una scarica lancia concentrata diversa secondo l'inizio di attivo. Capacità. Ok. Siverius. Pendente aereo. Sì, perché no? Colpo di scudo. Ok. È un piacere. Oh. Cosa dice questo? È un piacere perusale che potrebbe rilassare un'interesse. Quindi questo è l'inizio dove hai già stato. Voi con me a l'entrazione del villaggio. La guardia sta aspettando a te. È un piacere. Possiamo aiutare di attivare la informazione. Cosa faccio? Tu dovrebbe essere tornato a me. In questo momento, non ho chiesto per l'intrazione. Ma il ciò che ha fatto, non ho chiesto. Ma il ciò che ha fatto, non ho chiesto. Ma il ciò che è stato fatto. Oh, che buono! È un piacere! Quindi lui va in cerca di casse che ci sono nei paraggi Scusi eh Aspetta ma quale stiamo seguendo? Capo delle guardie Ah, tu hai tornato Buon tempo anche Prima e prima Ti accompagni a me Mi ringrazio Sei pronto per partire o hai bisogno di un po' di tempo? Molto bene Parmi con me Allora, prima di partire dunque L'erborista sbadata Torna da flora e consegna le ricostituenti di frutta che ha richiesto Mayhap I ought to ask around town Ah, benissimo C'è un po' di me, qui c'è un po' di freddo? Sì? C'è un po' di me? Grazie a tutti. Bastone corazzato. Grazie a tutti. 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 Ok, ci siamo cambiati i vestiti. Here you are master, I hope you like it. I found it myself. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit rubber in for me? Oh, I haven't much to offer in return. My heart is... ...manello dell'esultanza. Che cos'è Nell'entriso ti può aumentare La salute massima Perfetto Ok Ci sono dei punti esclamativi Sulla nappa presumo siano Delle quest Perfetto What a view I'd not say no to a short repose hereabouts We are alone here, me thinks Perhaps we might stop a moment And find our bearings It's as you say Leave it to me Shall I assist? Allora lui è un po' ferito Quindi direi di Just when I needed it most Many thanks Oh There are useful ingredients to be gathered here old wager Shall we see if there ought to be found while we're here Mi dà un Ok Ok Tutti gli alleati che potremmo reclutare Ma Allora Hasl è livello Due Un po' schifetta Ah no ma Noi abbiamo reclutato solo Coso Siverius dal portale Quindi Ah vabbè dai Teniamoci lui per ora dai Vedi Lascia la faglia Ma qui c'è un simbolo Che vuol dire Materi come questo possono essere combinati per creare cose Sto sicuramente potremmo trovare un progetto Potremmo trovare le prima Sì Non C'è un altro simbolo... Non capisco cosa sono questi simboli esclamativi... Sulla mappa... Strano... Sulla mappa... Boh... Non l'ho capito... Vabbè... Niente... Scendiamo... Boh... Sulla mappa... 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 Non mi scavo! Ti avrò in un pincushione! Grazie a tutti. Let me get that. The Arisen is the lawful ruler of Vermond. So it has always been. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with likely. I knew that I could count upon your strength, Arisen. Is there nothing we can do about this obstacle? I'm ready to attack, Master. Might I be of assistance? What obstacle? Ah, I'm sorry. Inclamativo, sono ostacoli da rimuovere. Ok. Guarda dove andate. Ti perdereai uno di questi giorni. Oh, non mi preoccupare. Queste cose succedono. Guarda dove andate. 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 Grazie, grazie. Ma non credo che sia il mio caso, se il risultato è vero, ci saranno davanti per il nostro problema. Se il risultato è vero, chi può dire? Tutto è stato arrangato. Gli ingredienti sono plentifulli qui, non ci sbagli a prendere alcuni. Bravi, prendete cose. Abbiamo trovato una città. us examine what it has to offer Un spazio decente per fare campi! Verrà evocata una pedina di alto livello. Comparirà una sola pedina, ma di livello alto. Dopodiché la pietra della foglia sparirà. Potrai assoldare questa pedina senza pagare alcun costo in cristalli della foglia. Buongiorno, facciamoci per la città. Guarda! Tu ti aspetta? Oh, Starrett! Grazie a tutti. 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 The monster's left us a parting gift. I'll see it safely into my pack. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. It's about time we pressed on. It's about time we pressed on, wouldn't you say last time? Don't you worry. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward. It might await us on the road ahead. Yeah. Oh, you're there. There we go. You're there. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aiuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovremmo abbattere quella scala. Grazie a tutti. 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 Come funzionano? Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ma stiamo andando... La capitale. Grazie a tutti. 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 Uff... Questa è un po' non stoppabile quando si troffi. Si dovremmo fare un'attività per uscire la scuola. E' meglio farlo velocemente, o altrimenti non c'è un'esperienza di scuola. Oh, gran! Mi piace di farlo, io li ho? Grazie a tutti. Ok E ma dove sta capitane? Do you wish me at the Vanguard to buy your will? This place makes my hair stand. Should trouble occur, required phase of welcoming. Skeletors... ...reventi. Typici nemici... ...de mostri fantasy. An oxcart ought to make our journey easy. It can be most convenient, though they only travel during the day. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. It's a good idea. Goblins! What rotten luck! We've needed your aid again, sir. Goblins approach! No one can defend themselves with grapple. You're a good idea. No one can defend yourself. You're a good idea. You're a good idea. You're a good idea. You're a good idea. Go ahead, there. Good idea. Grazie a tutti. 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 Ok. 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 No, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Bene ragazzi, il video si conclude qui, continuiamo nel prossimo gameplay.